In 1982, l'inizio di una nuova era, il nostro paese forse incomincia a rinascere. E' l'anno degli giudici, dei barinari, dei videoclip, della libertà e dell'estravaganza. Ma le insiglie sono tante. Ho paura della viso nucleare, per esempio. L'apparire sembra essere diventato più importante dell'essere, è una cosa preoccupante. Guarda. Voi dovrei riferirsi da dove? Guarda questo. No, 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 no. E' la mia volontà del cielo. Siamo noi, sarebbe vivere assolutamente. Sono stato chiaro? No. Nato, mi trovo! Quello che avete fatto è inocente, inoffresa. Ma prende internet qua. Internet non so che sia. Allora, lei. Uno, due, uno, due, uno. Sì, sì, è la grandezza, la nostra canzone è l'amore che fa, come un pensiero che sa, ti credi già.